Io ho imparato tantissimo da tutti loro da tutte le persone che ho incrociato nella mia vita il segreto è sempre cercare di frequentare persone migliori di te perché le persone migliori di te ti migliorano e io ho avuto il privilegio di stare accanto a delle persone che stimavo anche prima di conoscerle. Quello che riesco a dare io ecco se io qualche volta me lo dicono se divento punto di riferimento di qualcuno io ne spado orgogliosa se divento punto di riferimento come che ne so per esempio De Andrè è stato per me o come altri che ho incontrato beh è un complimento enorme ma mi piace più parlare di quello che ho ricevuto che di quello che ho dato quello che ho dato non sta a me poterlo raccontare. L'amicizia è un sentimento bellissimo come l'amore avere qua tutti questi miei amici colleghi con alcuni sono diventata più amica con gli altri un po meno ma non perché non nutriamo affetto l'uno per l'altro ma perché ci vediamo meno ma tutte le volte che ci scambiamo al telefono le nostre impressioni su quello che succede nel mondo quello è sempre un attestato di amicizia. Io diciamo che forse direi che su quel palco stasera oltre l'amicizia vedremo soprattutto la stima la stima reciproca e credo che la stima guarda ti dirò oserei dire che forse più importante ancora dell'amicizia perché senza stima non c'è né amore né amicizia è un'esperienza bellissima perché sentire sentire queste canzoni arrangiate in una maniera completamente sinfonica per cui così distante dai concerti pop che sono abituata a fare no con un organico pop basso chitarra batteria invece sentire cantare l'orchestra e sentire questi arrangiamenti fatti per un'orchestra sinfonica è completamente diverso e sarà un'esperienza diversa ma un'esperienza che volevo fare da tanto tempo.